Quindi veniamo al discorso che facevi tu, abbiamo francamente molti dubbi, il primo riguardante Albiol che come sappiamo il ritiro qui a Di Mario ancora non c'è, dovrebbe arrivare mercoledì o giovedì, non è ancora certo, potrebbe unirsi al gruppo anche direttamente a Napoli. Credo che anticipi il suo arrivo, credo che arrivi domenica, quindi qui insieme a Maggio e Gargano, quindi a questo punto che dovrebbero arrivare appunto tra domenica e lunedì, però Albiol parte titolare in questo Napoli che si sta costruendo, Pepe secondo te?